Ho appreso della situazione dei bagnini, faremo delle verifiche e cercheremo di capire bene questo aspetto. A Cavallino Treporti uno sciopero dei bagnini non ha precedenti, men che meno a Ferragosto. Se dovesse essere autorizzato l'assenza del servizio creerebbe più di un problema per l'attività degli stabilimenti balneari. Il sindaco Roberto Anesto sta seguendo con molta attenzione la vicenda dei bagnini che minacciano di incrociare le braccia dopo le multe da 1.032 euro cominate dalla Capitaneria di Porto. Quelle sanzioni peraltro non sono state le sole. Anche il Comune ha avuto una multa per degli aspetti relativi alla balneazione e quindi faremo ricorso. Riteniamo che ci siano degli elementi da far valere e la legge ci consente questo strumento. Chi ha appunto delle aspettative o dei fatti o degli aspetti da far valere ha uno strumento che è il ricorso. Da parte dell'amministrazione comunale c'è l'auspicio che le polemiche rientrino presto e si scongiuri uno sciopero che si teme possa avere conseguenze negative sul turismo. Auspico veramente che questa situazione di disagio, di difficoltà, di tensione venga chiarita il più presto che venga sistemata e che si possa procedere con la stagione con tranquillità e arrivare dopo Ferragosto e quindi alla conclusione nel migliore dei modi.